Annuncio super importante, preparatevi a entrare nel mio super club Allora, dovete entrare in questo club, è semplice Andate Cerca club Cerca club, no? Lavoro scrivete i veri king Qua Scrivete I Tutto il stampatello Tutto il stampatello Veri king E troverete il Nostro club Dove puoi giocare e divertirti L'attimana della lega dei club Non la fa praticamente nessuno C'è una vera sta gilda Questa è una vera risposta Intanto qua Non l'ho capito Quindi secondo il giorno dei vecchi eventi Nessuno non la fa nessuno Quindi Non dite nulla Quindi non dite nulla Siamo tutti a posto Entrate per favore Potete entrare Grazie 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 a tutti.